L'Isola del Bimbo, il miglior assortimento di accessori per la prima infanzia. Fasciatoi, culle, lettini, cuscini per l'allattamento, passeggini, carrozzine, portabebè e articoli per neonati. Abbigliamento delle migliori marche a costi molto convenienti e corsi pre-parto gratuiti. Inoltre, siamo disponibili per liste di nascita e liste battesimo. L'Isola del Bimbo, ricco e assortito showroom nel centro commerciale Anteo, via Anzium ad Anzio. Grazie a tutti.